Prima di iniziare vi chiedo di aiutare questo canale mettendo un like, attivare la campanellina ed iscrivervi al canale. Oggi parleremo di una notizia che riguarda Silvio Berlusconi e le sue volontà testamentarie, un argomento davvero interessante che sicuramente attirerà la vostra attenzione. Nell'ultima lettera inviata ai suoi figli, Silvio Berlusconi non ha menzionato Luigi, il più giovane tra di loro. Ma non preoccupatevi, questo non significa che Luigi sia stato escluso dall'eredità. La lettera in questione non è il testamento vero e proprio, redatto nel 2006, che prevede disposizioni a favore di tutti e cinque i figli. Si tratta invece di una richiesta da parte di Berlusconi a Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora, affinché si assumano la responsabilità di gestire la loro parte dell'eredità, che comprende anche Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, considerati quasi come fratelli. In altre parole, Berlusconi ha voluto che i lasciti destinati a Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, per un totale di 230 milioni di euro, fossero a carico dei suoi quattro figli più grandi. Il motivo di questa decisione rimane ancora sconosciuto e al momento non abbiamo risposte definitive. Tuttavia, ciò che sappiamo è che il giovane Luigi Berlusconi, all'età di soli 19 anni, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum nel 2012. È anche l'amministratore unico della società B5SRL, che raccoglie l'azionariato di cinque figli di Silvio Berlusconi, e dal 2014 è presidente del Consiglio di Amministrazione di Holding Italiana 14esima. Luigi è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Fininvest dal giugno 2012, mentre sembra abbia declinato l'invito ad entrare nei due gruppi paterni Mondadori e Mediaset. Oltre alle sue attività nel mondo degli affari, Luigi dimostra grande abilità nel riconoscere opportunità promettenti e farle crescere. Ha fondato la Fondazione Opsis, un'organizzazione no profit attiva in Lombardia nel settore sociale e impegnata in attività di beneficenza, Luigi è sposato con Federica Fumagalli, sua ex compagna di università alla Bocconi, ed entrambi sono molto attivi nel settore degli eventi. La coppia ha due figli, Emanuele Silvio, nato nel 2021 e così chiamato in onore del nonno, e Tommaso Fabio, nato nel 2022. Resta da vedere se proprio per questi due nipoti, il nonno Silvio ha deciso di riservare il suo sostegno finanziario a Luigi. Siamo curiosi di scoprirlo. E voi, cosa ne pensate? Lasciate un commento, non dimenticate di visitare il nostro canale per le ultime notizie e aggiornamenti. Siamo grati per il vostro supporto, seguirci e lasciare un like al video ci incoraggerà a continuare a condividere informazioni importanti. Alla prossima! Alla prossima!